ciao belli di mamma e benvenuti in questo nuovo video di ultimi acquisti e novità non so ragazzi ed è un po' che non faccio video seri diciamo seri tipo dark soul e quelle robe di serie un cazzo serie ma vabbè comunque perdonatemi veramente ma è un periodo anche questo incasinato veramente sia con gli studi sia con la vita sociale e tutto quindi perdonatemi ragazzi per questa settimana dovete contentarvi di questo video e la prossima settimana dovrebbe uscire o resident evil un video insomma insieme a ghost cioè resident evil oppure l'ultima parte di battlefield è quella della partita che avete visto insomma quello che sto caricando ultimamente e dopo da settimana quell'altra ancora quindi non la prossima quell'altra ancora dovrebbe partire una nuova serie di video e ma dragonis e tu non finisci l'ultima serie lo so lo so porca puttana perdonatemi ma avevo intenzione di fare quella serie ancora cioè ancora da un bel po' di tempo insomma ma adesso che ho trovato anche compagni di squadra diciamo così ma non vi voglio spoilerare niente della nuova serie ecco non vi dico niente quindi vedete delle belle spero che forse un'anteprima la faccia uscire la settimana prossima vediamo non so tanto il cellulare sta andando puttana non lo so vabbè parliamo degli acquisti allora teniamo sto tenendo ancora questo format perché non mi avete dato suggerimenti quindi per momento ah intanto vi ringrazio anche per tutti tutti gli iscritti che se ne andranno dopo aver visto questo bellissimo video fatto da un professionista con una mega telecamera con un cellulare che non ha neanche un flash c'è un cellulare che neanche ha il flash cos'è oh mio dio comunque prima che mi sparisca la voce di tutto ecco qua allora partiamo dall attacco di gigante che non ho neanche letto il numero 14 quindi ok proprio vaffanculo rock lee le disaventure qua le prudezze di bababa carino andate a vedere l'altro così l'altro video di ultime a queste novità così ve ne parlo anche caibon zone che ormai è finito peccato cioè io speravo di più su questo manga questo è già il quarto volume a febbraio il quinto e l'ultimo volume che dovrebbe essere l'ultimo peccato io mi aspettavo molto di più da questo manga vedremo il finale dopo vi dirò se merita oppure no questo merita tantissimo tantissimo non c'è neanche c'è non vi devo dire niente ok walking dead via maio dopo parlo di te walking dead 26 e 27 che adesso dal mese prossimo cominciano a costare meno perché questo è l'ultimo che costerà 3 euro e 30 perché spiegato tutto perché diminuiscono le pagine ok dal 96 passano a 56 mamma mia quanta cazzo di roba ho preso in queste settimane vabbè deadpool 11 e 12 non ha bisogno di presentazioni fighissimo l'unica roba marvel che adoro insieme a superio spider man che devo ancora finire georgio trinity che non ho ancora letto ma la copertina mi gusta il primo volume mi è piaciucchiato vediamo come si svilupperà la storia che adesso rum fighissimo l'anime l'anime si sta bloccando è un casino anche quello ma andate a vedere voi non sto qui a spiegarlo il destino di cacucco cacucca 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 ok promettente è il primo volume molto promettente i nemici non è che mi chiedono più di tanto però è molto promettente come storia e e protagonista vedremo un po come si svilupperà e ve lo dirò se merita o no solo e questo è uno di 5 quindi ce ne sono di volume ragazzi poi elf elide il secondo e il terzo e il quarto dopo vi dovrò dire un'altra roba di elf elide sancarea questo me l'ha consigliato un amico veramente stupendo ragazzi io sto cercando adesso il terzo volume se mi arriva il terzo volume e porca puttana comunque veramente fighissimo sto divertente erotico no ma divertente si comunque ragazzi consigliato e parliamo un attimo di maio il re dei demoni l'ero vabbè ma non si vede un cazzo con questo cellulare a parte della mega zettone in copertina che solo questo vale il prezzo e vi consiglio anche di sbrigarvi perché fino alla fine febbraio questo è un prezzo bonus diciamo così si è scontato costa 1 euro e 99 se l'ho pagato 1 euro e 99 quindi vi consiglio di prenderlo e però è abbastanza strano cioè non è quello che uno si aspetterebbe di leggere tipo battagli quella roba lì è più una cosa di come potrei dire di di strategia una roba abbastanza strana adesso non vi voglio spoilerare niente ma non ci sono molte battaglie almeno non c'è un cazzo di battaglia ok è molto parlato è più su sulla pace ma non sto qua a spoilerarvi ok se volete ve lo scriverò nei commenti ecco cos'è oppure su facebook mi sta mancando la voce planifiato dronis sembra che mi sto facendo un un mattone di droga ma va bene ecco quello che vi stavo per dire di elfenlaide ecco i volumi come quando li acquisto come sono impacchettate neanche se fossero entai il 5 e 6 che devo ancora leggere dovrebbero arrivare fino alla fine dell'anime che vi consiglio almeno di vedere l'anime se siete maggiorenni perché non è una cosa da da bimbi minchia elfenlaide come come violenze tematiche diciamo così comunque ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto e a parte elfenlaide il discorso di elfenlaide che è tutto impacchettato vabbè ho capito che è violento ma anche crime zone è violento anche anche attacco dei giganti è violento però la panini ha voluto eh panini almeno si panini panini ha voluto impacchettare quello lì e anche zebra mi sembra il nuovo manga che sta uscendo ultimamente l'ho visto impacchettato almeno nel quarto volume l'ho visto impacchettato e giustamente vabbè se gli piace così impacchettiamo le cose va bene comunque scusate per questo video lungo 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 troppo lungo per questo genere spero che il video vi sia piaciuto se avete domande sono risposto a rispondervi subito subito nei commenti e anche nella pagina di facebook e niente e video spero che arriveranno come avevo previsto di Battlefield e Resident Evil settimana prossima e la nuova serie settimana quell'altra e basta alla prossima ciao belli di mamma ciao ciao ciao